Il forum del terzo settore è impegnato insieme al CSV ma insieme al mondo dell'associazionismo per dire no a Columbra? No a Columbra ma sì alla differenziata, sì sui siti inquinati, alla bonifica dei siti inquinati, quindi non è no e basta. Capiamo che ci sono dei problemi grossi, non è un no a Columbra, è un no al fatto che tutta la regione Calabria non ha fatto le discariche nelle province con cognate e noi ci ritroviamo a subire queste negligenze loro per accogliere la spazzatura da noi. E' certo che la spazzatura da qualche parte bisogna buttarla, sono un illuso, dico no, dove si mette? Un posto bisogna trovarlo, però bisogna trovarlo e suddividere per ogni provincia. Noi dovremmo stare attenti a questa cosa qua. E' chiaro che il nostro no su Crotone in modo particolare è un no perché siamo troppo inquinati, non è perché siamo campanilismo, perché vogliamo che la spazzatura vada in un altro posto. Capiamo benissimo che ogni provincia deve avere la sua discarica pubblica, se pubblica si può fare, ma bisogna partire anche dalla raccolta differenziata perché altrimenti voglio dire, non è che so che il Comune ieri ha dichiarato, e credo che sia la quarta volta che dichiarano l'inizio della differenziata, vigileremo anche su questo, la differenziata che si deve fare, si deve fare per bene, così diminuiamo perlomeno i rifiuti che vanno nelle discariche tal quali. E' una battaglia che fa il terzo settore, anche il terzo settore, certo, perché il terzo settore che è composto da cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato e di promozione sociale, non può interessarsi soltanto dei progetti interni o del servizio che va a gestire. Se vuole avere dei risultati per i cittadini deve andare nei territori e si deve preoccupare dell'ambiente, della cultura, del sociale, della sanità, di tutto. Superando quello che tutti questi anni ci hanno propinato, che ogni volta ci dicono emergenza, è una parolina magica questa emergenza. Dietro all'emergenza si fa qualsiasi cosa, non ci sono più le regole. Noi vogliamo un mondo dove ci siano anche le regole. Sì, dobbiamo dire che la Regione ha già dato l'input alle diverse province, ogni provincia dovrà avere una discarica per il proprio territorio. Già questo forse è un segnale. La preoccupazione nostra è che l'ordinanza va verso la realizzazione di altri siti, ogni ato deve avere il suo sito. Ma se non l'hanno fatto in quattro anni, potranno farlo fino a giugno 2020? Non credo, sarà molto difficile. Dovevo stare attento, dobbiamo vigilare. Noi cittadini dobbiamo cominciare a dire vigileremo su tutte le cose, perché altrimenti pagheremo il prezzo sulle nostre teste e noi sappiamo quante persone nella nostra città stanno morendo di tumore.